Sì, prendi, io sto ricaricando qua. The match is still progress, continuo, yes. Conoscenza di questo cazzo di bug di merda del nome è terribile. L'ho fatto due partite su due. Due partite su quattro. Sì, sono appena sceso. Sì, sto scendo ora. Niente, ancora... Niente, ancora mi dà come nemici. Boh. Ecco. Ok, Marcello. Go, go, go. No, al posto di andare al market... Aspetta, al posto di andare al market, mettiamoci qua con le macchine. Dove ho messo il simbolo rosso, lo vedete? Ah, non ve lo fa vedere, cazzo. Comunque... Eh, vabbè, come ve lo spiego? Allora, la vedete là di Poliana, nella mappa? Uno, due, tre, quattro. E spostati. Ci sei? Io direi, al posto di andare in un punto concitato, ci mettiamo in un punto a bordo mappa, coperto, e aspettiamo il prossimo cerchio per spostarci. Cazzo. Qua Qua Aspettiamo che cambia mappa Aspettiamo qua Vediamo qua sopra che c'è qualcosa Che dite? In caso poi ci spostiamo Aspettiamo Eh perché è buggato Mi dà pure a me il nome lo vedo Qua dritto così dove guardo io 290 Eh lo so perché è buggato di merda Sto cazzeggio Tanto vado avanti a morire come un cane in caso Usatemi appunto il riferimento di morte Ci siete? C'è gente c'è gente a 2.50 E come cazzo ve lo spiego Guarda da qua C'è uno alla torre Dove? La vedete la torre? Comunque vabbè venite come sono io Facciamo prima Comunque c'è gente E sopra salite Salite ancora di più Sono Sono io sono io quello davanti Quello che vedete voi sono io mi sa Sono io quello Che salta Io ne ho visto uno Alla torre sulla sinistra Dove sto guardando io Vedete dove sono girato Non uscite le teste Perché vi shotta quello Che è stracoperto Mi sa che era da solo Alla torre dovrebbe essere Niente aspettiamo il prossimo cerchio Perché non fatevi ammazzare O è dentro la torre O è sotto O è sopra Andiamo Andiamo ad ammazzarlo da solo L'ho downato L'ho ammazzato l'altro L'abbiamo ammazzato tutti Sì Perché Sono io sono io Ma minchia Non ho fatto Non so nemmeno io Come cazzo Ho fatto vedere Quello là sopra Non ho visto uno sopra In maniera bruttissima Era messo Vediamo I puntatori laser Caricatore AK Eh lo so Vabbè non ti preoccupare L'importante è che non mi ammazzi Poi il resto Eh minchia Effettivamente È stato Peno male Ti sei regolato Dal giubbetto Un pochino Se non avresti sparato subito Conoscendoti Allora io lascio 5 e 50 E i 7 e 62 Che non mi servono Mi prendo Gli altri Ragazzi Ci dovremmo spostare Comunque dopo Minchia Questi li abbiamo Purgati Ma non così Ragazzi Ragazzi Dovremmo scendere Che ci mettiamo 30 secondi Di arrivare al mezzo Così abbiamo tempo E dove La torretta E allora Cioè E' quello che avevo visto prima io Questi qua Non c'entrano in un cazzo Non andiamocene Dobbiamo restarlo Vado io Vado io Ah io non posso restarti L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato Eh non lo so Sì perché L'ho ucciso subito Ah ma è proprio Morto morto Ragazzi Non lo vedo io a Marcello Niente Dobbiamo andarcene Perché moriamo Abbiamo sbagliato A stare così tanto tempo Ve l'avevo detto io 30 secondi fa E' stato Questo è stato No E dobbiamo prendere forse i mezzi Che cazzata Che abbiamo fatto E i mezzi Sono lontani Eh guarda Lo stesso è meglio Prendere il mezzo Anziché andare a piedi Perché siamo lontanissimi Siamo veramente Troppo lontani Cazzo Mi rompo le gambe E beh Semmi fin a dopodomani Ah manco Mi scende l'energia Secondo voi Quello che vedete voi Dov'è la moto? Ce l'avete voi la moto Lasciamo in me la moto Che è più facile che muoio Con la moto Vieni l'altro mezzo Allora Hei hei non ci posso credere si è incastrata la moto non ci posso credere io mi do cura mi se ne è incastrata la moto ma mi hai visto una cosa hai visto Marcello? mi se ne è incastrata la moto nel muretto ah vero vero ragazzi ditemi un punto di riferimento perchè non vedo i posti posso vedere i vostri segnali per certo minchia siete combinati malissimo quei due ti piace? questo color cachi una lotonda sul male una lotonda sul male cioè praticamente siamo in 24 quindi sicuramente negli stabili al centro ci sarà gente nella mappa ci sono tre edifici secondo me abbiamo gente vicino da Poliana ora aspettiamo io ci ho il metto distrutto completamente ti piace eh? si scoppiano a 265 e io pure livello 1 distrutto io ho ceste e il metto distrutti praticamente cioè mi pareranno uno sputo che culo che si chiude su di noi dai 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 sono fiducioso dai vi servono colpi 556 io ne ho 240 io ve li lascio perchè poi se muoio come un cretino lascio i pacchetti da 30 vedete anzi uno 30 e 34 vai prendetene tutti questo è il mio pene qua come no? l'ha presi lui forse non lo so io ho messo due pacchetti 30 e 34 c'era a terra non lo vedi? se l'è mangiata bello se l'è mangiata il gioco aspettate che li lascio e no il gioco vai pegateli eeeh aspettiamo lo stesso minchia minchia campo aperto senza mirino sono che mirino avete voi in più? minchia pure io minchia non abbiamo manco un'ottica di di quelle buone allora aspettiamo ancora noi allora io direi questa porta a 55 di vedere a destra o a sinistra se siamo scoperti che dite? ma faccio io così se muoio apro? sembra non esserci nessuno però ancora un minuto niente aspettiamo sembra non esserci nessuno ok quindi dobbiamo muoverci praticamente tra di secondi dobbiamo scopertare un'ottica di scappare ricopro questa line qua vediamo da questo lato di nuovo mi affaccio di nuovo vediamo se siamo scoperti sembra non esserci nessuno ma volete andare col mezzo? tipo pazzi comunque noi siamo coperti dai palazzi bastava cambiare palazzo chiedi che ti vedono da fuori però ora 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 che stanno scoppiando via 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 che cazzo che cazzo mi ha bloccato balla di fieno balla di fieno questa frontale si scoppiano sono lontani loro mi sa siamo 8 sono lontani per forza perché noi siamo 3 questi 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 3 questi 3 siamo coperti bene da questi 3 io striscio vedete che mi sto per mettere in un cespuglio eh ve lo dico allora niente io vado direttamente io me la faccio strisciando fino al punto quello là dove c'è il cerchio vedete che sono vicino a voi non mi sparate come un cretino eh non 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 Io sono combinato A piedi di tavolino Ma la distanza Da voi? Non capisco dove cazzo è Io vado verso il punto eh Sto costeggiando il punto di A piedi Alla fine sono rimasto io come un coglione Ah Che bello Scontro sei persone Un team da tre sicuro Se no ho due team Allora li faccio scandare tre di loro e mi sto fermo Finchè non muore qualcun altro Allora E io strisciando potrei già avanzare un altro poco Posso andare comunque Io io No io sono sempre stato dentro Il problema è che non mi dava Tra di con voi Sì sì sto strisciando come un cane Silenzio totale per favore Zitto Marcello per favore No dall'altra parte sono loro Per forza se no mi avrebbero sparato Ammazzato uno L'ho ammazzato di due comunque Quello eh Vinto Abbiamo vinto Minchia sto vincendo quasi spessissimo sti giorni Minchia quelli sono rimasti malissimi Era un team sano Aspetta che io mando la foto a prinzaccio così bestemmia fino al dopodomani Attenzione partitone Attenzione partitone Quindi Quindi Un'altra No dall'altra parte è la foto a cui